Quella di oggi è una giornata davvero significativa perché in tutta la regione sono iniziate le vaccinazioni dei ragazzi autistici. Presidente, una bella soddisfazione e una bella notizia soprattutto? Assolutamente sì, abbiamo approfittato della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e grazie all'interessamento dell'assessore e della Lanx Abruzzo abbiamo avuto la possibilità di vaccinare i ragazzi autistici in sedi più protette, quindi nei loro centri dove loro frequentano giornalmente, per cui non li abbiamo lasciati in centri vaccinali normali dove sarebbe stato molto più difficoltoso. Una giornata importante anche perché era necessario, era fondamentale vaccinare questi ragazzi? Assolutamente sì, perché loro sono una categoria di fragili, quindi un ragazzo autistico che viene contagiato dal Covid sarebbe comunque molto difficile da gestire in ospedale, per cui è meglio fare la vaccinazione il prima possibile, quindi abbiamo approfittato di questa giornata. Si riapre la speranza per poter continuare le riabilitazioni in massima sicurezza e direi però che la strada per i diritti è ancora in salita, c'è tanto da fare, ci sono tantissime persone, soprattutto gli adulti, che hanno bisogno di assistenza, di centri di riabilitazione, ma ancora anche quella famosa, il famoso dopo di noi, che è il primo pensiero dei genitori, delle famiglie che hanno figli autistici. Assessore, quella di oggi è la giornata della consapevolezza dell'autismo, ma come Comune di Montesilvano avete dei progetti da porre in essere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Proprio ieri abbiamo firmato un protocollo con l'ANXA, l'associazione che si occupa di autismo, ed è un protocollo molto interessante, un gesto anche di amore che abbiamo voluto dare a queste famiglie, organizzeremo attraverso l'associazione dei corsi di formazione, proprio per gestire questo tipo di approccio, quindi al ragazzo autistico, attraverso sia gli studi all'interno degli uffici, ma anche con le categorie.